Sicuramente è una bellissima occasione essere alla presenza del Presidente Mattarella, però credo che la ricorrenza del 25 di aprile sia una ricorrenza importante per ogni singola comunità e l'importanza per me di celebrarla, in dieci anni non ho mai perso la celebrazione di un 25 di aprile nel mio comune, l'importanza di celebrarla in un orario consone, quindi al mattino consentendo al maggior numero di persone di essere presente e quindi non nel pomeriggio perché sarebbe stato necessario spostare la celebrazione al pomeriggio quando comunque per le persone è anche più difficile partecipare. Io credo che il 25 di aprile sia la festa di ogni comunità, veramente la festa della nostra liberazione, una festa che ha un significato anche di patria, di comunità, di campanile anche potremmo dire perché ciascuno di noi, ciascuna delle nostre comunità ha una storia in cui si riconosce, ha dei personaggi che sono collegati a quella ricorrenza, a quella celebrazione e quindi per me era importante essere presente anche inoltre in corrispondenza della fine del mandato, per me era importante non delegare nessuno ma essere personalmente presente alla celebrazione della festa della liberazione del comune e della comunità di Talla. Un giorno quello della liberazione a cui anche il comune di Talla ha dato un importante contributo. Beh sicuramente anche noi abbiamo dei personaggi che ricordiamo alcuni più conosciuti, altri meno, faccio due nomi, Licio Nencetti, Angelo Valentini che domani noi onoreremo insieme a tutti i caduti per la liberazione, ai monumenti di piazza Nencetti, alla targa il ricordo di Valentini e al monumento ai caduti di piazza 4 Novembre ma ciascuno di noi, la storia è fatta di piccoli tasselli, di piccole gocce, ciascuno di noi ha dei ricordi, ha dei episodi anche familiari legati magari non appunto a personaggi che sono stati decorati con le medaglie ma che comunque hanno dato il loro contributo e quindi per noi è importante celebrare e ricordare anche tutte queste persone. Quindi per la nostra comunità io credo sia importante, ho ritenuto necessario essere presente di persona e non modificare la nostra prassi di celebrazione del 25 di aprile, nemmeno in questo 25 di aprile così importante per la provincia di Arezzo e poi anche in corrispondenza con la fine del secondo mandato, non avendo mai mancato di celebrare nessun 25 di aprile in questi ultimi dieci anni da sindaca.